Una casa, una casa vera, protetta, sicura, è quella che il comune di Montesilvano con l'azienda speciale ha messo a disposizione delle donne vittime di violenza fisica e psicologica. Oggi, il 25 novembre, la presentazione ufficiale di questa iniziativa concreta, che da febbraio sarà attuata dal brutto. Nasce il bello, perché l'appartamento in questione era stato confiscato alla mala vita, come ci dice il sindaco Ottavio De Martini. Un'iniziativa molto importante e significativa, che vedrà un appartamento confiscato alla criminalità diventare invece una casa rifugio per le donne che hanno subito maltrattamenti. Riteniamo essere davvero importante questo percorso, peraltro un percorso unico in Italia, perché è la prima casa rifugio gestita pubblicamente. È un percorso che vuole non soltanto lanciare messaggi, come si fa con tante iniziative, ma concretamente aiutare appunto le donne che ci auguriamo siano poche, ma che subiscono maltrattamenti e rischiano anche di poter sfociare poi in situazioni più gravi e delittuose, come quelle che ascoltiamo negli ultimi tempi. E di spazio donna, ma non solo, ci parla Sandra Santa Venere, azienda speciale comune Montesilvano. Innanzitutto comunichiamo il nuovo numero del pronto intervento, che ovviamente sarà a disposizione di chiunque si senta in difficoltà, qualunque donna ha necessità anche soltanto di essere ascoltata. E' lo 085-88-91-34-1. E' il cambio di sede, che sarà in via Valde d'Aosta. Abbiamo voluto cambiare l'ubicazione anche per dare un'accoglienza maggiormente riservata. La novità importante, che oggi ci rende, come dire, anche abbastanza ottimisti, è quello di aprire una casa che possa accogliere una donna a seguito di una denuncia, perché il problema è proprio questo, cioè se la donna non si sente sicura a seguito di una denuncia, magari deve rientrare lì dove lei può rischiare. Questo per noi è fondamentale, quindi avere una casa, soprattutto l'abbiamo voluto chiamare spazio donna, perché è un luogo dove la donna dovrà ritrovare la propria libertà, la propria identità. E quindi per noi è fondamentale che questa donna venga accolta innanzitutto dai nostri dipendenti, quindi la gestione sarà dell'azienda. Quindi totalmente pubblica. La donna avrà un'assistenza psicologica, ci sarà la presenza dell'educatore, dell'assistente sociale, ma anche appunto legale. Il percorso sarà, come prevede la legge, da tre a sei mesi. Le donne ospitate in contemporanea possono essere fino a tre. Noi anche qui però facciamo un appello affinché tutte le procedure, insomma, l'iter giudiziario possa essere sempre più breve, perché ovviamente così noi potremmo dare tutela a più donne. Adesso è libera.